segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te c'è qui tra berlusconi salvini la meloni questa rottura della moratti lei che quadro vede la moratti è coerente con quello che ha sempre detto e non condivide dei provvedimenti sia del governo che della regione lombardia essendo vicepresidente e assessore alla sanità si è mi sembra una notizia normale non ci vedo niente di straordinario se non che la moratti ha presentato una sua lista civica con la quale intende correre alle prossime elezioni lombardia e io mi auguro vivamente che questa io non ho le stesse idee della moratti come è noto però le riconosco professionalità serietà impegno e ritengo che farebbe ottimamente il governatore della lombardia sarebbe un grande risultato politico che metterebbe oltretutto in difficoltà certamente il governo perché se salvini perde la lombardia è evidente che ci sarà un problema serio certo non è facile far digerire elettori del pd un nome come la moratti che è una persona per bene ma è proprio dall'altra parte se però abbiamo fatto digerire talmente tante cose dice lei una più una meno veramente vale no non una più una meno questa vale la pena questa vale la pena perché almeno farebbe vincere farebbe vincere dice lei il partito democratico gli farebbe prendere una regione come la lombardia così importante c'è una questione